Musica Domenica 5 ottobre, San Placido Martire, è il 278esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 87 al termine. Il sole sorge alle 7.13 e tramonta alle 18.44, la luna si leva alle 16.59 e tramonta alle 3.16. Dal parroco di Santa Maria Formosa viene battezzato Francesco Guardi, figlio di Domenico, sarà uno dei più celebri pittori del 700 veneziano. Sagra del Rosario Annoale dal 2 al 12 ottobre, ogni sera con le grandi orchestre che ti faranno ballare. E poi il Luna Park e il rinnovato stand gastronomico. Sagra del Rosario Annoale dal 2 al 12 ottobre. Annoale, non mancare! Il campo parzialmente soleggiato, con spazi di sereno più duraturi sulle zone costiere, alternati ad addensamenti dapprima soprattutto per nubi medio-alte relativamente estese e poi per nuvolosità più varia. Precipitazioni assenti, temperature, le minime subiranno un contenuto aumento soprattutto nelle valli, le massime contenute variazioni di carattere locale.